Diciamo che è una fase in cui stiamo conoscendo i ragazzi che sono arrivati nuovi, quindi li stiamo esaminando con vari test per poi iniziare a programmare un lavoro mirato al campionato. In questa fase stiamo lavorando anche individualmente su uno di loro, aspettando nuovi arrivi, lì capiremo quali settori fisici e quali adattamenti atletici andare a intaccare per cercare di raggiungere lo stesso livello con tutti i ragazzi che già sono condizionati. Nel coach Bardovin secondo anno una maggiore amalgama, una maggiore comprensione del lavoro, quindi un qualcosa in più, un quid in più per programmare meglio la stagione. Con il professore Guazzalocca è tra virgolette un mostro sacro da anni nei migliori campi, nei club top level del campionato italiano ed estero, quindi per me è un'occasione maggiore per imparare qualcosina in più.